Pronto? Il signor Niccolò Farwa Chi parla? Ah, è tornato finalmente Come sarebbe a dire finalmente? Pronto? In ogni caso si riferisce una cosa molto importante Importante per me Idete dunque Cerce la Idete dunque Cerce la Caught in a fog Caught in a fog Non ti è dunque Qui è tal? 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 Sono Grazie per la visione 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 Grazie per la visione